L'articolo 32, per chi non ha il bezzo di leggersela la Costituzione in Italia, è proprio il diritto che tutela, il diritto alla salute. Certo, ci sono delle postille, la nostra Costituzione fa anche delle postille, ovvero che l'interesse individuale e la salute di un singolo non deve essere sacrificata al punto tale in nome di una ragione di collettività, nel senso che non si può imporre un singolo, una restrizione libertaria come quella che c'è stata. Di fatto però non si sta parlando di leggi in questo caso, perché è da tempo che non abbiamo governi eletti dal popolo, il potere legislativo spetta al Parlamento, all'esecutivo la decretazione ovviamente, è l'unico metodo che ha per fare pseudoleggi, la decretazione in caso di emergenza e necessità, decreto legge. Noi di fatto sono anni che andiamo avanti a decreti legge, se noi guardiamo bene, governi che non sono stati eletti dal popolo, quindi quasi delegittimati, visto che la nostra Costituzione, come è stata citata dalla signora Pocanzi, fonda appunto innanzitutto sul lavoro e qui di lavoro ne scarseggia parecchio e tanta gente è stata privata dell'esercizio del proprio lavoro a causa del Covid, ma dà il potere al popolo. Con questa decretazione d'urgenza, se noi guardiamo bene, sarebbero tutti i provvedimenti da disattendere, perché la legittimità io sinceramente fatico a vederla. Di fatto però hanno costretto e imposto regole che tutti abbiamo dovuto seguire. Perché dico abbiamo? Perché anche chi, io non sono un anobax, lo premetto, però ho fatto il vaccino per il Covid, per una semplice questione di costrizione lavorativa. Io da avvocato mi ero imposto di entrare in tribunale come avvocato solo con il Green Pass. Per il resto uscire, non uscire, cioè io devo lavorare e solo questo strumento mi permetteva di poterlo fare. Se guardiamo bene, il Green Pass però non è uno strumento sanitario. Che ne dica il Ministro Speranza? Il Green Pass è stato un obbligo surettizio a costringere la persona a vaccinarsi, perché senza il Green Pass non poteva fare alcunché. La gente, gli stessi medici, non potevano svolgere, io ho una cliente che svolgeva medicina d'emergenza in pronto soccorso ed è stata sospesa senza stipendio. Poliziotti, forse dell'ordine, sospesi senza stipendio. Lo stesso poliziotto che commette un reato nell'esercizio delle sue funzioni viene sospeso dal suo ruolo come tà stipendio. Quindi qui c'è qualcosa che non va, nel senso. Per cui io non parlerei di leggi, ma di decreti leggi, che sono tutt'altra cosa. Spettano all'esecutivo, non al Parlamento e di fatto il Parlamento è stato esautorato moltissimo dei suoi poteri. Il decreto legge dopo 60 giorni il Parlamento deve darlo ok, quindi non diciamo cose non vere. Il decreto legge è uno strumento dell'esecutivo, ma dopo 60 giorni deve essere approvato. Che non l'hanno mai fatto. Certo, per carità, ci sono solamente... Se l'abbiano fatto, non l'abbiano fatto, se non l'abbiano fatto decade. Se viene fatto, non è vero, perché ci sono stati i decreti leggi che sono diventati leggi, ci sono i decreti leggi che si sono fermati lì. Non so se ha la contezza del fatto che tantissimi decreti legge hanno avuto 80 decreti di attuazione, mi faccia finire per cortesia. Se lei reputa che siamo ancora in una democrazia parlamentare, io la ammiro. Esatto. Perché... Allora il popolo votano i partiti, i partiti devono formare una maggioranza e dalla maggioranza nasce il governo. Quindi nessun governo viene eletto dal popolo, nessuno. Viene eletto dal Parlamento e il Parlamento è eletto dal popolo. Dipende dalla legge elettorale. Questo dal 48.